al Mario Sandrini di Legnago si sfidano Legnago e Provercelli padroni di casa vengono da cinque sconfitte nelle ultime sei gare di cui tre K.O. casalinghi consecutivi la Provercelli invece è forte di quattro vittorie nelle ultime cinque partite e parte con il piede sull'acceleratore cross di Condello per Parodi che si avvita ma in tuffo di testa non riesce a centrare lo specchio della porta la risposta del Legnago porta la firma di Rocco riceve sulla sinistra si accentra va col destro si allunga Sassi sbampato la rimette in area di rigore Flipper all'interno dei sedici metri della Provercelli che in qualche modo si salva e al trentunesimo passa in vantaggio Rodio sovrappone e crossa sul secondo palo dove trova la testa di Mustacchio quinto gol in stagione per il numero sette miglior marcatore dei suoi e ventesimo centro in serie C per l'attaccante esterno capitano della Provercelli Legnago ha la chance per pareggiare il destro di Gianni viene respinto poi di AB al limite dell'area piccola la mette incredibilmente alta l'ultima chance della prima frazione ce l'ha la Provercelli con Mustacchio che veste i panni di uomo assist trova Nepi in estirada il numero nove non prende la porta si rimane uno a zero Nepi che avrà una chance ancora più grossa in avvio di ripresa la bucano due difensori del Legnago Condello la lascia Nepi che spiazza Fortin in una sorta di rigore in movimento ma mette fuori e allora una delle più vecchie leggi non scritte del calcio gol sbagliato gol subito Gianni Parasassi e poi Fan Ransbeck è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla ribattuta e a fare uno a uno al cinquantunesimo minuto secondo sigillo in stagione dopo la rete al Renate non accadrà praticamente più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro che arriva dopo sette minuti di recupero il Legnago mette una pezza all'emorragia di sconfitte in casa la Provercelli allunga la striscia positiva ma non riesce a vincere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!